Tutti noi continuare incessantemente a promuovere la donazione di sangue nel nostro territorio per avere sempre nuovi donatori. Ringraziamo di cuore tutti i donatori, uomini e donne. Grazie perché offrite regolarmente il vostro sangue con entusiasmo, con umanità, con grande senso del dovere. Siete voi che con il vostro gesto sorreggete le nostre comunali. Per questo passiamo ora alla consegna dei diplomi e delle benemerenze al diritto trasfusionale. Dopo alcune parole del rappresentante Franco Oveglio della Provinciale di Asti. Grazie. Buongiorno a tutti. Come prima cosa volevo portarvi i saluti del Consiglio Provinciale e del Presidente Provinciale Roberto Cartoni. Per un'occasione così importante come questo cinquantenario di fondazione delle vostre Avis di Montetiaro e Villa Sansegotto. Le vostre due comunali, che da tempo lavorano insieme, sono state tra le prime nella provincia di Asti a fare i prelievi congiuntamente. rispondendo un po'